Quando facciamo il prodotto di due numeri relativi, se il primo è un numero positivo più per un altro numero positivo, otteniamo un numero positivo, segno più. Se moltiplichiamo invece due numeri negativi meno per meno, otteniamo un segno ancora positivo, più. Se invece moltiplichiamo un numero positivo più per un numero negativo meno, otteniamo un numero negativo. Se moltiplichiamo un numero negativo per un numero positivo più, otteniamo un numero negativo. Quindi, riassumendo, quando si moltiplinano due numeri dello stesso segno, cioè concordi, otteniamo un numero positivo. Quando invece moltiplichiamo fra di loro due numeri di segno opposto, cioè discordi, otteniamo un numero negativo.